Un Taranto timido non riesce a superare il Catania, vince la formazione di Tabbiani che salva la panchina, 1-0 contro i Rosso-Bluionici. Gol nel secondo tempo di Di Carmine al minuto 66, il Taranto è 3-5-2 di partenza, 4-4-2 per il Catania. La prima vera occasione al Catania capita al minuto 20 con una punizione dai 30 metri di Chiricò con Vannucchi che si distende e mette in calcio d'angolo. E' sempre il Catania ad avere il pallino del gioco, 26esimo Marsura sulla destra attraversione per Di Carmine alto. Trentesimo giratinaia di Di Carmine, Vannucchi attento e blocca evitando il gol da pochi passi per l'attaccante catanese. Il primo squilo del Taranto rival 3 minuti dall'intervallo e ci pensa Cianci dalla distanza, Betters riesce a parare ma in due tempi. Nella ripresa entrano Ferrara e Fiorani per Panico e Zonta. Il Taranto potrebbe andare in vantaggio al 52esimo, c'è un lancio verso Canutè che arriva in area di vigore e viene anticipato, Betters allora blocca. 55esimo Di Carmine, il più pericoloso dei suoi, prova a piazzare il tiro ma non trova la via del gol. Il vantaggio però giunge al minuto 66, c'è un cross dalla destra di Castellini, la sponda è di Marsura, Di Carmine anticipa tutti di testa e porta in vantaggio il Catania, sarà il gol partita. Minuto 73, Chirico in area di sinistro, bravo, Vannucchi a mandare in calcio d'angolo e sugli sviluppi del corner un doppio colpo di testa, quello di Curato il secondo, traversa. L'occasione migliore per il Taranto arriva al minuto 86, in area di vigore c'è Fiorani che riesce a trovare il giusto pertugio con il destro ma il pallone finisce di poco a lato da destra dell'estremo difensore del Catania. Nonostante i 5 minuti di recupero c'è soltanto un'emozione da segnalare, al 93esimo in contropiede Zanellato per Dubicas, pallone che sbatte sulla traversa interna senza gonfiare la rete. Finisce 1-0 per il Catania, adesso il Taranto è attesa dalla sfida infrasettimanale contro la Turris.